Una sfida fra Toscani, ma Lelli ormai è il netto vincitore davanti alla maglia rosa che può vendirsi soddisfatta di questo risultato. In terza posizione, ora si piazza, anzi supera rettamente per Mar e Chiotto. Lelli, la giornata probabilmente è più bella della tua vita di corridore. Vincere qualsuna, andava così difficile. Sei sicuro? Non credevo, però ci ho fatto a tenere abbastanza bene e poi qui a 300 Nelli ho capito che potevo vincere. Autorizzi un sogno rosa a questo punto al tuo direttore sportivo? Vinceremo. Io sto abbastanza bene, cerco di fare il possibile, però facciamo un passo alla volta. Rimango sempre a piedi per terra perché purtroppo qui siamo... Cioè è uno sport, il ciclismo è molto duro, magari un giorno va bene, un giorno va male. Ho nelle vene il ciclismo toscano, sono nato a Manciano diversi anni fa. E tutti mi chiamano Lelli e da bambino ho imparato a pedalare. Ovunque andrai, tu vincerai, questo mi dice il mio cuore, il ciclismo do tutto l'amor. Tra gare e allenamenti ho quasi cinquant'anni, però non sono tanti, se voglio gareggiare. Ricordo le vittorie come se fosse adesso, quando arrivavo primo, s'andava a festeggiare. Ricordo che al giro d'Italia con la classe e la forza mi feci onore. Più volte campione toscano, sentivo la gente tifare per me. Ce la farò, mi allenerò, delle vittorie d'amore che da sempre l'ho dentro al mio cuore. Le coppe quelle grandi, sono belle da guardare. L'ho vinte nel pedale, batte il tuo corrido. Lasciatemi cantare, con il mio trofeo in mano. L'ho vinto dal ragazzo, con quinta e con sudò. L'ho vinto dal ragazzo, con il mio trofeo in mano. L'ho vinto dal ragazzo, con il mio trofeo in mano.